SuperSite consente di creare dei reindirizzamenti a link esterni o interni al sito web. La procedura di reindirizzamento è utile nel caso in cui vi sia una vecchia pagina che è stata indicizzata o che potrebbe essere a conoscenza degli utenti e che nel frattempo è stata eliminata o rinominata. Per iniziare apri il menu principale qui in alto. Seleziona impostazioni. Clicca su reindirizzamenti. A questo punto se non sono presenti i reindirizzamenti precedentemente impostati clicca il pulsante aggiungi un reindirizzamento. Nel campo indicato inserisci il nome della vecchia pagina. Da qui seleziona il nome della nuova pagina a scelta tra quelle presenti nel menu a tendina. Indica la tipologia di reindirizzamento permanente o temporaneo. Clicca infine sul pulsante salva posto qui in alto. I reindirizzamenti configurati sono visibili nella schermata principale della sezione ed è possibile modificarne le impostazioni o rimuoverli. Clicca su pubblica per rendere pubbliche le modifiche a tutti gli utenti. conferma la pubblicazione allo step successivo.